Vieni di violenza, sguardo intenso e preguroso, che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a te. Vieni di violenza, sguardo intenso e preguroso, che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a te. Vieni di violenza, sguardo intenso e preguroso, che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a te.